Benvenuti nel mondo degli orologi Pierre Cardin. Pierre Cardin è un noto stilista francese, famoso per le sue creazioni futuristiche e avveneristiche. Ma non solo moda, l'azienda ha creato anche una linea di orologi che rispecchia lo stile unico e innovativo del designer. Gli orologi Pierre Cardin sono caratterizzati da un design moderno e audace, con dettagli unici come quadranti ovali e cinturini in metallo a maglia. La gamma di orologi Pierre Cardin comprende modelli sia per uomo che per donna, con opzioni che spaziano dalle linee classiche a quelle più contemporanee. Gli orologi Pierre Cardin sono l'emblema della qualità e della precisione, due aspetti fondamentali per chi cerca un orologio affidabile e di alta classe. Ogni orologio è dotato di movimenti al quarzo svizzeri di alta precisione, garantendo la massima affidabilità. Inoltre, i materiali utilizzati per la produzione degli orologi sono di alta qualità e includono acciaio inossidabile, oro rosa e argento, vetro minerale antigraffio e cinturini in pelle o metallo. Molti modelli sono anche resistenti all'acqua, rendendoli un'ottima scelta per chi cerca un orologio versatile e resistente. Grazie a tutti.